Partiranno a lunedì 1 marzo i lavori per la realizzazione del nuovo pontile di attracco a Intra. Nei giorni scorsi è stato consegnato il cantiere alla ditta vincitrice dell'appalto. Il nuovo pontile sarà anche a servizio delle imbarcazioni elettriche per una sosta temporanea al porto vecchio di Intra. Il costo dell'opera sarà di 94.000 euro. Lo scopo è dotare Intra di un molo per chi vuole arrivare in barca e quindi con un basso impatto ambientale. Nel frattempo vanno avanti i lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in corso Mameli, mentre l'amministrazione, come spiega il sindaco Silvio Marchionini, sta lavorando per progettare la riqualificazione di Piazza Ranzoni. Il nuovo pontile, sottolinea l'assessore all'ambiente Giorgio Comoli, fa parte del progetto più complessivo denominato Mobster sulla mobilità elettrica da noi presentato e che vede, oltre al nuovo pontile, l'acquisto di una barca elettrica da utilizzare nella riserva naturale di Fondo Toce e sulla foce del Toce, che sarà consegnata nei prossimi mesi, nonché l'installazione in città di 10 punti di ricarica per auto e bici elettriche, già avviate in questi giorni. Il porto offre oggi, conclude l'assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi, complessivamente circa 90 posti per imbarcazioni natanti, di cui 30 su un pontile galleggiante e rimanenti in adiacenza allo scivolo interno del molo. Per il nuovo ormeggio si prevede la realizzazione di un nuovo pontile galleggiante posto parallelamente alla banchina di accesso a terra, prevedendo una passerella di accesso della lunghezza di circa 10 metri, con doppio corrimano laterale, collegato al pontile galleggiante e formato da un elemento modulare della lunghezza complessiva di circa 12 metri. Inoltre verrà predisposta l'installazione di una stazione di ricarica elettrica rapida, consistente in un pozzetto a terra di consegna di alimentazione elettrica e cavidotto fino al pontile galleggiante.